Fermi tutti, questa è una rapina! No! 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 Lo state! Questo è un film per occhi maturi. Se non vi piace la verità su certi giovani d'oggi, non venite a vederlo. Vigli occo, io t'ammasso! Se non vi piace scoprire che forse anche voi non siete dei genitori modello, lasciate perdere questo film. Ma allora sei per la violenza. Che c'entra la violenza? La vita è una lotta dura e spietata. Il sentimento non conta. E spesso è necessario calpestare il cadavere di chi ci precede. Voce contrasta, senza pietà. Se volete ignorare che anche i poliziotti vengono assassinati, restate in casa a guardare la tv. Se non volete sapere cosa potrebbe fare vostra figlia quando esce, questo film non fa per voi. Devi essere un duro tu, o sbaglio. Posso riaver Pungiball. Per farci che cosa? Hai le mani che ti tremano, neanche lo colpiresti. Se non volete vedere la giungla che ci circonda, non venite a vedere neanche questo film. Dalle descrizioni, brusotti, statura, potrebbero essere quelli della rapina allo stadio. No, la mala non c'entra, ciao. Che cosa hai intenzione di fare? Bloccarlo con le mie mani, ecco che cosa. Ho setacciato la città in cerca del minimo indizio. Ma sono sicuro che c'entra il giovane Ardenchi. Lasciami, ho detto no! E girati! No! Su! Fermo! Mettiti giù! Perché questo film è un duro, violento, spietato ritratto di un certo mondo attuale. E potrebbe anche non piacervi, scoprire che vi siamo tutti coinvolti. Troione! Dì, perché mi hai invitato a casa tua? Volevo fare una scopata legale. Conosci bene, Tony? Ecco, cominciano le domande del terzo grado. No, lasciami, hai capito, lascio! No, io parlo qua dove parlo! Lasciala stare! Ah, me lo vanno a passare, dire a piano! Senti un po', commissario. Cosa succeda a una battona che prende a schiaffi un funzionario di polizia? Probaci! E così tu la faresti arrestare? Certo! E siccome sono un corrotto, approfitterei dell'occasione. Mi dispiace, ho smesso di battere, adesso frequento solo i commissari. Ma quello non ti piace, eh? Dai! Aiutami! Sta ferma! Ma dai che ti piace! Certo che le piace! Da morire! No! 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 Grazie a tutti